Il famoso produttore di smartphone cinese Vivo è decisamente Vivo e Vegeto e con questa battutaccia da quattro soldi ragazzi potrei chiudere qui definitivamente la recensione di questo nuovo V40 che arriva ufficialmente in Italia dopo tanti anni di assenza di questo grande player nel mercato degli smartphone. Vivo V40 arriva insieme al fratello minore V40 Lite che si inseriscono in due fasce di prezzo leggermente differenti 399 la versione Lite, 599 la versione base tradizionale di questo V40 che tra l'altro è protagonista della recensione di oggi perciò non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire lo smartphone sponsor di Euro 2024. Il nuovo Vivo V40 all'apparenza si presenta nel migliore dei modi ma d'altronde è un biglietto da visita con il quale l'azienda si presenta da sempre sul mercato degli smartphone e questo dispositivo non fa sicuramente eccezione. Lui è realizzato completamente in plastica ma è rifinito talmente bene che ho dovuto leggere la scheda tecnica che mi ha inviato l'ufficio stampa per notarlo perché altrimenti sono certo che mi sarebbe sfuggito. Anche la back cover che sembra realizzata in vetro è in realtà fatta di plastica con una bella finitura quasi setosa al tatto e soprattutto con una colorazione nebula purple davvero carina e per nulla scontata. Il grip è eccellente, qui le dimensioni sono pari a 164.1 x 74.9 x 7.5 mm ed il peso è di soli 190 grammi in più l'azienda qui ha optato per un design a bordi curvi sia sul fronte che sul retro scelta discutibile per molti ma personalmente sapete come la penso la reputo la soluzione migliore per l'usabilità di ogni giorno. Sul retro poi fa la sua comparsa un camera bump cilindrico che racchiude le due lenti in collaborazione con Zeiss nella parte superiore e il flash Aurora Light nella parte inferiore che approfondiremo tra pochissimo. Non manca naturalmente la certificazione ad acqua e polvere IP68 che chiude perfettamente il cerchio. Per il resto qui troviamo i due pulsanti volume a destra con il tasto power e poi in basso il carrello sim, microfono, connettore usb-c e speaker stereo con l'altro collocato nella parte superiore in corrispondenza della capsula auricolare. In termini di display, ragazzi, il vivo V40 può vantare a bordo un schermo con diagonale da 6,78 pollici, risoluzione 1,5k e matrice di tipo AMOLED come al solito. È un display con refresh rate fino a 120 Hz e soprattutto luminosità di picco, pensate un po' fino a 4500 nit con la riproduzione di contenuti in HDR10+. Nell'utilizzo quotidiano tuttavia è un po' più bassa, con valori che si attestano intorno ai 1500 nit all'incirca, comunque sufficienti ad assicurare una buona visuale sotto la luce del sole. Sono disponibili tre preset di colore che permettono di regolare la vividezza del display secondo le proprie preferenze, ma personalmente non ho sentito la necessità di variare nessuna impostazione, in quanto la taratura di default è piuttosto buona per la fascia di mercato in cui si inserisce lo smartphone. Per il resto, vi dicevo, lo smartphone supporta l'HDR utilizzabile in app come YouTube e Netflix senza difficoltà, vista anche la compatibilità con i DRM Widevine L1. Il Vivo V40 inoltre monta sotto lo schermo un efficiente sensore ottico per le impronte digitali che è affidabile e reattivo. Qualora questo, ragazzi, non dovesse bastarvi, abbiamo a disposizione anche un sensore per lo sblocco facciale di tipo 2D che anche lui, piuttosto veloce, è affidabile nell'utilizzo di ogni giorno. Unica nota dolente è il feedback vibrazione al tocco durante la digitazione, che mi sarei aspettato fosse un po' più morbida, un po' più decisa, per così dire. Probabilmente Vivo, ragazzi, era già al corretti di questo piccolo difettuccio, per così dire, tant'è che di default arriva la vibrazione al tocco disattivata che poi invece è attivabile nelle impostazioni. Ma parlando di hardware, invece, il nuovo Vivo V40, come ogni buon medio di gamma di questa metà del 2024, è equipaggiato con lo Snapdragon 7 di generazione 3, chipset già provato in tanti di altri dispositivi negli ultimi mesi e che ha sempre dimostrato la sua bontà. L'unico passo falso, ragazzi, su questo modello, se così vogliamo definirlo da parte di Vivo, è l'utilizzo di memorie di tipo UFS 2.2, al contrario di tanti altri dispositivi nella stessa fascia di mercato, che arrivano anche con memorie di tipo UFS 4.0. Attenzione, però, perché a differenza di tanti altri dispositivi che utilizzano queste memorie lente e obsolete, per così dire, lui nei benchmark eseguiti mostra dei risultati quasi al pari di memorie di UFS 3.0 e 3.1, perciò, diciamo che chiuderei un occhio su questo scivolone di Vivo. Per il resto, comunque, i tagli di memoria disponibili sono i canonici 8256 e 12512 con memorie RAM di tipo LPDDR4X. Il Vivo V40, durante l'utilizzo quotidiano, è sempre fluido e reattivo, come ormai la totalità degli smartphone sul mercato di fascia media. Molto bene la gestione delle temperature del dispositivo, che rimangono sempre sotto controllo, non superando mai 36-39 gradi, anche in condizioni di uso intenso o durante le sessioni di benchmark più stressanti. Sarò sincero, ragazzi, in queste settimane qui al Sud Italia, dove io vivo, le temperature sono davvero altissime. Riuscire a valutare perfettamente le condizioni delle temperature di dispositivi è quasi impossibile, perché, pensate un po', il mio iPhone è costantemente bollente, anche se lo lascio sulla scrivania molto spesso, escono fuori messaggi per la temperatura molto alta, perciò prendiamo sempre con le pinze in questo periodo, almeno personalmente, i valori della temperatura, ma in ogni caso, ragazzi, in linea di massima, non ci sono grosse difficoltà con questo Vivo V40, che riesce a smaltire bene i carichi, e nel caso a limitare leggermente le prestazioni, in funzione di un abbassamento più repentino delle temperature. Il Vivo V40 poi offre anche un'ottima connettività, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, supporto al 5G, e supporto alle SIM, fino ad un massimo di 8 profili installabili, bene anche la ricezione dello smartphone, e bene anche la qualità degli speaker presenti a bordo. In quanto a software, ragazzi, invece, Vivo si presenta con una ROM naturalmente differente rispetto a quella che tante volte abbiamo analizzato negli smartphone di provenienza cinese. Qui troviamo, infatti, ragazzi, Fantaccio OS, un'interfaccia grafica completamente diversa dall'origine OS che Vivo utilizza per i suoi dispositivi cinesi. La Fantaccio OS, ad ogni modo, si presenta con un'interfaccia utente semplice e intuitiva, con animazioni fluide, senza troppi appesantimenti inutili. C'è ampia possibilità di personalizzazione tra sfondi, icone, always on display e soprattutto sidebar e finestre flottanti per il multitasking. In generale, Vivo, nonostante l'assenza da tempo sul mercato europeo, è riuscita a presentarsi con un dispositivo che assicura un ottimo bilanciamento tra prestazione ed efficienza. L'unica nota dolente è racchiusa, però, negli anni di supporto a livello software perché Vivo ha annunciato di aggiornare il suo dispositivo che di base esce con Android 14 per soli due anni di miglior update, quindi arriverà massimo ad Android 16. In compenso, però, avremo quattro anni di aggiornamenti delle firme di sicurezza di Android. Perciò, diciamo che, rispetto a tanti altri produttori nella stessa fascia di mercato, un pelino sottotono su questo punto di vista. Ma la vera chiave di volta del nuovo Vivo V40, ragazzi, è senza dubbio racchiusa nel sistema fotografico che Vivo ha pubblicizzato, e giustamente direi, ha dovere, non solo sul packaging, ma anche sulla scocca dello stesso dispositivo, con il marchio Zeiss, ben in evidenza, sinonimo da sempre di eccellenza in campo di lenti fotografiche, e non solo. V40, ad ogni modo, è dotato di un sistema a tre fotocamere da 50 megapixel ciascuna, tutte co-ingegnerizzate con Zeiss per offrire dei risultati superiori rispetto alla media della fascia media, e scusatemi il gioco di parole. La lente principale gode di un sensore da 1,56 pollici con un'apertura f1.8 e una stabilizzazione ottica. Questa lente, così come quella grandangolare, che differisce solo per apertura focale pari f2.0, gode di una serie di ottimizzazioni appositamente studiate da Zeiss, soprattutto per la modalità ritratto. Vivo V40 è infatti il primo smartphone della fascia media a supportare ben tre lunghezze focale differenti per i ritratti, 24, 35 e 50 mm, il che semplifica la fase di scatto che diventa ancora più interessante grazie ai set effetti Zeiss Bokeh che offrono delle possibilità di personalizzazioni in più sui ritratti, un po' come già fatto da Honor nella serie 200, ma qui con Zeiss, secondo me, il livello è ancora più alto. Ad ogni modo, l'esperienza di utilizzo complessiva della fotocamera di questo V40 è senz'altro positiva. In tutti gli scenari, soprattutto in buone condizioni di luce, lui garantisce dettagli nitidi e colori altrettanto vividi. L'innovativo anello di luce posteriore Aura Light permette inoltre di migliorare in modo imponente la fotografia notturna, illuminando la scena con una luce regolabile sia in intensità che in temperatura per ottenere risultati ottimali. La fotocamera grande angolare, poi con i suoi 50 megapixel, non passa sicuramente inosservata. In effetti, durante l'utilizzo è sempre stata impeccabile in tutte le circostanze, da quelle più basilari con tanta luce fino agli scenari più complessi di sera dove riesce a tirare fuori risultati nettamente superiori rispetto alla concorrenza. La fotocamera frontale con obiettivo grande angolare e field of view a 92 gradi oltre agli algoritmi antidistorsione assicura selfie di alta qualità riducendo di fatto le distorsioni del visio tipico delle lenti di questo tipo. D'altronde si tratta anche qui di una lente da 50 megapixel che non poteva che garantire delle performance di altissimo livello. La registrazione video in 4K invece raggiunge massimo i 30 fps, non offre la possibilità di switchare fra le varie lenti durante la registrazione, ma nel complesso la resa video non è alla pari di quella fotografica, ambito nel quale lui riesce ad offrire dei risultati migliori. Eh sì ragazzi, nonostante lo spessore estremamente ridotto e il peso ben bilanciato, Vivo è riuscita ad inserire all'interno di questo dispositivo una batteria da ben 5500 mAh? Vi starete chiedendo come ci è riuscita? Beh, di fatto l'azienda è riuscita ad ottenere questo risultato utilizzando per la prima volta la batteria BlueVolt V40, una batteria realizzata con materiale anodico al silicio carbonio di seconda generazione che ha permesso di ottenere un aumento di 900 mAh pur mantenendo uno spessore ridotto al punto di essere, non a caso, lo smartphone con il rapporto migliore batteria-spessore. L'autonomia di questo dispositivo ragazzi è naturalmente ai massimi livelli, 6-7 ore di display attivo si riescono ad ottenere senza particolari difficoltà e anche gli utenti più esigenti riusciranno ad arrivare a sera con un 20-30% di autonomia ancora disponibile perciò batteria super decisamente promossa. Nonostante tutto ciò c'è anche la ricarica veloce fino a 80W che assicura dei tempi di ricarica veramente molto bassi seppur però manchi la ricarica wireless che in questa fascia di prezzo diciamo probabilmente mi sarei aspettato. Ma parliamo di soldini ragazzi perché come vi ho anticipato in apertura Vivo V40 arriva ufficialmente in Italia a 599€ seppur ragazzi utilizzare il termine arriva, il verbo arriva è un po' un controsenso perché di fatto è difficilissimo riuscire a trovarlo nei vari shop online e dal momento la distribuzione è affidata quasi esclusivamente allo store di Wind 3 con cui diciamo il brand cinese ha un accordo di commercializzazione. Wind 3 è un altro store di cui vi lascio il link in descrizione sono gli unici due portali online che al momento distribuiscono il Vivo V40 seppur invece il Vivo V40 Lite o il Vivo V40 SE siano più facilmente reperibili online. Ad ogni modo ragazzi 599€ per portarvi a casa questo smartphone che segna il ritorno di vivo in Italia una cifra secondo me un po' altina devo essere sincero seppur lui sia grosso modo alla pari con tanti altri dispositivi però quello che mi viene da pensare è che se volessimo paragonare a livello di hardware lui e a tanti altri ad esempio potremmo acquistare l'Honor 200 per 449€ ma anche il Motorola Edge 50 Ultra che con i vari sconti online ormai si trova poco meno di 500€ o anche il nuovo OnePlus Nord 4 che con il suo prezzo di listino di 499€ segna diciamo una nuova fascia di mercato di riferimento. Lui è sì uno smartphone interessante perciò se siete decisamente interessati delle fotografie probabilmente è il migliore della fascia media ma secondo me conviene aspettare un pochettino che cali almeno quei 100€ per renderlo appetibile e decisamente alla portata di tutti. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Giz. a Grazie a tutti.